Ciao ragazzi, oggi per il secondo episodio del nostro libro, la scorsa settimana abbiamo fatto questo e anche questo. Il titolo è La caccia al tesoro nell'universo, l'hanno scritto Lucy Stephen Hawkins. Io l'ho letto in tre giorni questo qua, perché è vario di tempo, tipo questo qua l'ho letto in due giorni perché avevo un po' più voglia, questo qua no. Le pagine sono 223 pagine, il racconto parla che Agne si trasferisce in America perché c'era un'agenzia spaziale che l'ha chiamata, allora George resta da solo a casa sua. Dopo un po' gli arriva una lettera da Agne che gli dice di prepararsi ad andare in America perché è una cosa importantissima da dirgli. Allora George chiede a sua nonna di mettersi d'accordo con sua mamma e ce l'hanno fatta. Quando sono andati in America si scopre che stanno mandando un satellite su Marte per vedere se ci sono forme di vita, perché il progetto si chiamava che dovevano trovare gli alieni. Però questo robot ha avuto un problema e il resto se lo volete sapere dovete prenderlo. I personaggi sono Agne, George e Eric. Poi è stato molto carino, lo possono leggere i bambini e le bambine ed è stato molto bello, ottimo. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e iscrivervi e attivare la campanella. Ciao!